Sconfitta dalla mia squadra, noi abbiamo fatto le ultime tre partite, si aggiungiamo la quarta con Milano dove abbiamo fatto tantissime cose ottime e buone su tutti e due agli alti del campo, dimostrano anche di essere vivi al di là dei problemi che abbiamo in questo momento qua, sia fisici, di infortuni, oltre al fatto di dover tenere fuori due giocatori per turnover e purtroppo è la terza partita, soprattutto le ultime tre dove facciamo delle grandi cose e un po' chiamano Cazanitte oggi è la terza partita dove riusciamo a ribaltare completamente l'inerse e andiamo davanti e poi non abbiamo la forza di prenderla poi dopo è evidente che anche oggi, nei momenti cruciali, Varese ha trovato tre grandi cose da situazioni individuali soprattutto due grandi canessi da tre punti e noi purtroppo non abbiamo fatto la stessa cosa di là eravamo riusciti bene a ribattere punto dopo punto e purtroppo negli ultimi minuti, minuti, minuti e quaranta non abbiamo avuto questa forza, quindi sono molto dispiaciuto perché probabilmente poi per tutto come avevamo fatto anche la seconda parte della partita, se avessimo fatto bene questi due minuti avremmo assolutamente meritato di portarla a casa Sì ma io in questo momento il problema è di vincere una partita, non è di vincere il playoff o non il playoff non era vincere per il playoff, era vincere per la bella solidizzazione, per mettere in campo il lavoro e anche credo quello che i ragazzi hanno dimostrato di mettere in campo in queste ultime tre partite con i nostri errori, con i nostri limiti, con i nostri purtroppo brutti inizi ma qui abbiamo non il problema, ma il desiderio di vincere una in questo momento qua che è la cosa che ci manca più di tutti